Ci troviamo ancora qui oggi sul territorio di Milano, al momento siamo in via Amedeo d'Aosta 6 e tra poco ci verranno aperte le porte di un'altra attività proposta dalla Civil Week organizzata dall'Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Ollus. Andremo tra poco proprio a scoprire qual è l'attività che viene proposta. E ora ci troviamo direttamente all'interno della sede, come potete vedere, dell'Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Ollus che ci ha aperto le porte in un'ora di questa Civil Week e sicuramente ce ne parlerà molto meglio il dottor? Pietro Verdelli, buongiorno a tutti. Io sono psicologo e membro dell'equip dell'Associazione Pollicino che appunto, come diceva lei, è l'Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Ollus, quindi una onlus fondata a Milano nel 2006 che si occupa di prevenzione e cura del disagio psicologico in età evolutiva con un focus specifico sui disordini alimentari nell'infanzia e nell'adolescenza. Ci occupiamo appunto di, insomma, clinica, prevenzione, sensibilizzazione, quindi progetti nelle scuole. Abbiamo tutta una parte dedicata all'editoria e anche poi alla formazione, quindi accogliamo appunto tirocinanti post lauream di varie università di Milano. Diciamo, una delle specificità dell'Associazione è un numero verde gratuito, un servizio nazionale, infatti siamo inseriti nella mappatura del Ministero della Salute e, insomma, anche con le difficoltà di questo momento pandemico, però, diciamo, lo sviluppo dell'online ci ha permesso anche di entrare in contatto con famiglie un po' da tutta Italia, infatti, insomma, per quanto riguarda la parte della clinica e dei colloqui, realizziamo colloqui sia in presenza sia online. Complimenti intanto, senza dubbio, per la bellissima attività che state portando avanti. Come mai avete deciso di partecipare al Civil Week e cosa state portando proprio per Civil Week? Allora, la Civil Week, innanzitutto, penso che sia una manifestazione, un'iniziativa, settimana di eventi, molto importante, che dà la possibilità appunto al terzo settore di mostrare un po' insomma quello che fa e di entrare in rete con altre realtà. L'Associazione Pollicino fa anche parte del Tavolo per la non violenza del Municipio 3, insomma, un'iniziativa a cui fanno parte diverse realtà e associazioni del Municipio, così come alcune scuole, e quindi ci è stato anche proposto, insomma, anche attraverso il Tavolo, di poter partecipare alla Civil Week. E ci è sembrata una bellissima iniziativa, insomma, sia per far conoscere alcune delle attività o delle iniziative realizzate da Pollicino, sia per mostrare un po' la nostra specificità. Quindi, all'interno della Civil Week abbiamo realizzato due eventi, la presentazione di un testo che è Ansia, di Pamela Pace, la presidente dell'Associazione Pollicino, psicoanalista e psicoterapeuta, che tratta appunto i temi dell'ansia legati al Covid, magari, ma anche appunto all'ansia come vissuto che può caratterizzare i genitori. E insieme a lei erano presenti anche la dottoressa Valentina Valaguzza, che è psicologa dell'Associazione Si occupa dei progetti nelle scuole, e Nina Verdelli, che è giornalista di Vanity Fair. Poi abbiamo presentato il libro Un livido nell'anima, l'invisibile pesentezza della violenza psicologica, che è un testo appunto realizzato da Pollicino, sul tema dell'abuso psicologico della violenza psicologica. Insomma, insieme a noi, a me, che ero presente, insomma alla dottoressa Marta Bottiani, che è psicoterapeuta e vicepresidente dell'Associazione, c'era anche la dottoressa Diana De Marchi, quindi presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune. Insomma, Pollicino si occupa anche del tema della violenza psicologica da diversi anni, ed è una delle specificità che poi ci ha portato a entrare nel tavolo per la non violenza. E da ultimo, da lunedì fino a oggi appunto venerdì, era attivo, ed è attivo, uno sportello d'ascolto gratuito sui temi appunto della violenza psicologica e dell'ansia, appunto a cui le persone potevano prenotarsi e, diciamo, realizzare un colloquio gratuito. Un'altra e ultima, forse, specificità dell'associazione è proprio il fatto di garantire un primo colloquio conoscitivo gratuito alle persone che ci contattano attraverso il numero verde o la mail. Che raggio di età avete più o meno fra tutti i pazienti, che avete la fortuna anche di ascoltare in realtà? Allora, la specificità di Pollicino è sull'età evolutiva, è quindi dagli 0 ai 16 anni. Pollicino crede molto però nel lavoro con la famiglia e di conseguenza il primo colloquio avviene con i genitori, solitamente proprio per accogliere e dare spazio, ascoltare la loro preoccupazione, proprio in linea con l'attività di prevenzione e sensibilizzazione che realizza l'associazione. Per noi questo pre è un valore fondamentale, perché preoccuparsi vuol dire occuparsi prima e quindi diamo più o meno nella fascia dagli 0 ai 16 anni, fino magari anche ai 18, però spazio anche ai genitori per appunto dare ascolto a loro, con percorsi di sostegno alla genitorialità o anche appunto semplicemente per portare un po' le fatiche e poter lavorare insieme. Allora, grazie mille, siete stati veramente gentilissimi qui sul tavolo, vediamo anche diversi libri perché avete detto che vi occupate anche di editoria, quindi grazie veramente per averci ospitate oggi e congratulazioni per il progetto che siamo sicuri andrà avanti ancora per molto e speriamo che aiuterà molte persone. Grazie a voi.